carissimi pace del signore buona giornata grazie a dio per come ci possiamo trovare insieme e stamattina leggiamo con l'aiuto del signore un passo molto noto si trova in genesi al capitolo 4 leggeremo i primi 15 versi la storia è quella del dell'uccisione di abbele compiuta da parte di caino suo fratello leggiamo al primo verso che ad amo conobeve sua moglie alla quale concepì e partori caino e disse ho acquistato un uomo con l'aiuto del signore e poi partori abbele fratello di lui e i due presero strade differenti nel senso che abbele fu pastore di pecore mentre caino fu un lavoratore della terra verso 3 caino fa un'offerta di frutti della terra al signore abbele lo imita fa anche lui un'offerta però dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso notiamo che il signore guarda con favore abbele e la sua offerta mentre non guarda con favore caino e la sua offerta perché ho voluto sottolineare questo perché a contrario di quello che si potrebbe magari pensare ciò a cui dio pone attenzione non è tanto ciò che offriamo ma come lo offriamo guarda l'offerente più che l'offerta in altre parole d'altronde lo sappiamo che dio guarda al cuore lo dice esplicitamente il signore a samuele quando deve scegliere il secondo re dio lo manda a ungere uno dei figli di sai e quando samuele vede passare davanti a sé il primo figlio pensa subito nel vederlo così alto robusto bello e questo il futuro re di israele ma dio gli dirà no non è lui non ho scelto lui l'uomo guarda l'apparenza io guardo al cuore sì dio guarda al cuore dio pesa i cuori dice il libro dei proverbi e infatti leggiamo che gesù quando era nel tempio guardava come le persone offrivano e nel vedere una donna che metteva nella cassetta delle offerte due spiccioli disse questa donna ha messo più di tutti quanti gli altri sorprendente vero perché mi ha messo più degli altri perché gli altri hanno messo il superfluo lei ha messo invece tutto quello che aveva tutto ciò che le necessitava per vivere il signore guarda al cuore guarda i sentimenti guarda a ciò che ci spinge ad agire infatti è scritto che dio ama ad esempio un donatore allegro e dio ci aiuti ad offrire a dio il nostro tempo i nostri talenti ad essere usati da parte di dio ma ricordiamoci che è fondamentale essere predisposti con dei buoni sentimenti in modo tale che il signore ci possa onorare possa gradire quello che noi facciamo una cosa essere usati da dio una cosa essere approvati da dio noi vogliamo essere usati ma anche approvati non ci basta essere usati perché tante persone sono state usate da parte di dio però non approvate la loro sorte sarà una sorte tremenda terribile caino si irrita il suo volto è abbattuto dio lo vede dio gli parla sì perché il desiderio di dio è che tutti gli uomini siano salvati e quando una persona è lontana da lui quando una persona ha dei sentimenti sbagliati ed è motivata da principi che non sono secondo la sua parola egli parla parla perché lo vuole attirare a lui e infatti dio glielo dice caino perché sei irritato perché il tuo volto è abbattuto e gli rimarca il problema se tu agisci bene rialzerai il volto ma se agisci male il peccato sta spiando alla porta del tuo cuore i suoi desideri sono rivolti contro di te ma tu dominalo il problema ripeto era lì la vita di caino egli agiva male non bene e il peccato notate lo spiava i suoi desideri desideri del peccato erano rivolti contro di lui ricordiamocelo il peccato cerca di adescarci cerca di allontanarci da dio perché vuole il nostro male non il nostro bene ricordiamocelo è importante questo perché tante volte quando il peccato si presenta e questo lo abbiamo evidenziato anche quando abbiamo parlato della tentazione di eva quando il peccato si presenta si presenta come un bene come un'opportunità come qualcosa di attraente ma nella realtà il suo scopo è quello di distruggere la nostra vita e allora dobbiamo dominare i nostri istinti dobbiamo dominarli in modo tale da poter essere vittoriosi sulla tentazione e vittoriosi di conseguenza sul peccato resistete al diavolo dirà l'apostolo pietro ed egli fuggirà da voi c'è qualcosa che noi dobbiamo fare dobbiamo resistere resistere a quegli istinti naturali quelli malvaggi intendo che ci vogliono portare a trasgredire la volontà di dio e questo è possibile solo se la nostra natura viene rigenerata dalla grazia di dio ne abbiamo accennato ieri o meglio parlato ieri con raccontando la storia di nicodemo ecco perché gesù disse è necessario nascere di nuovo perché solo con l'aiuto di dio e la forza che viene da dio solo con un cuore rigenerato è possibile resistere al peccato e alle sue tentazioni purtroppo caino non ascoltò la voce di dio non permise alla parola di dio di operare nella sua vita e di guidare i suoi passi e allora cosa avviene avviene che un giorno caino verso otto parlava con suo fratello abbele e trovandosi nei campi si avventò contro abbele suo fratello e lo uccise non l'aveva visto nessuno nessuno sapeva quello che lui aveva compiuto ma dio sì e infatti dio lo chiama e gli dice dov'è abbele tuo fratello e se qui caino avesse confessato il suo peccato si fosse pentito si fosse ravveduto leggeremo una storia diversa e invece la storia che leggiamo è quella di un uomo che anziché ravvedersi e pentirsi continua a nascondere il suo peccato che cosa ne so io non sono il guardiano di mio fratello dirà e il signore gli dà che cosa hai fatto che cosa hai fatto dio conosce vede ogni cosa della nostra vita e dio ci aiuti che non dobbiamo mai sentire queste dio ci aiuti affinché non sentiamo mai queste parole che cosa hai fatto noi vogliamo essere lodati dal signore non ripresi non richiamati e dinanzi al richiamo di dio vogliamo pentirci e non agire come caino il quale dinanzi alle parole del signore disse il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo non chiese perdono non si ravvede non si ravvede dal suo peccato ma invece semplicemente si lamenta di quella che sarà la condanna che dovrà subire signore aiutaci aiutaci a rivederci perché altrimenti la condanna che tu comminerai a causa del nostro peccato una condanna giusta sarà qualcosa di terribile la bibbia parla dello stagno ardente di zolfo e di fuoco ma dio ci aiuti a vivere invece una vita che lo onora in modo da evitare che il giudizio di dio si abbatta sulla nostra vita e quando pecchiamo fratelli sorelle ricordiamoci c'è la possibilità del pentimento e del ravvedimento e quindi del perdono perdono che cristo acquistato sulla croce mediante il suo sangue fratelli sorelle lodesi a dio per cristo gesù perché mentre il sangue di abbele grida vendetta il sangue di gesù ci parla di perdono e noi sotto quel sangue vogliamo portare la nostra vita affinché possiamo un giorno essere salvati per la fede in cristo gesù e per la grazia che viene dal golgo del calvario che dio ci aiuti e ci benedica e ci accompagni ancora durante questo giorno grazie a tutti Grazie a tutti.